In primis, in questo libro vuole emergere il disagio di questi ragazzi, questi giovani che hanno, a mio avviso, una vita ancora più difficile di quella che è stata la mia, di quella che è stata quella di Massimo Citro, questi disagi dei ragazzi ma anche delle loro famiglie e abbiamo cercato di mettere in luce, il titolo penso sia veramente emblematico, questa grasi, questo Cepus Day, abbiamo voluto mettere in luce tutto questo centro di interessi politici ed economici che stanno dietro al numero chiuso. Il libro inizia con una prefazione bellissima del giudice imposimato, di Ferdinando, che ci ha accompagnato in questa esperienza. Il messaggio che vogliamo sempre far passare è quello di non arrendersi mai. Abbiamo raccolto mille firme all'epoca, era il 2008, poi Ludu ha iniziato a raccoglierle sotto un'altra forma moderna, ha fatto una petizione, stop al test, tutti i ragazzi mandavano la loro foto dicendo di abolire il test d'ingresso. Noi abbiamo fatto una raccolta, il cosiddetto documento dei mille, il primo firmatario era Rita Levi Montalcini. Il messaggio che portava era appunto quello di non arrendersi mai, di non essere mai mediocri e di cercare di migliorare. Questo è un messaggio che noi cerchiamo sempre di far partire e di far passare da parte dei nostri giovani. Evariste Galuaz, chi era Evariste Galuaz? Era un uomo, era un ribelle, un repubblicano all'epoca, fu sottoposto a delle domande che lui non riteneva giuste, non le riteneva stupide, malfatte, malformolate e allora scelse di tirare un cancellino. Di fronte a questa protesta noi la prendiamo come simbolo appunto per reagire, col messaggio ai nostri giovani di andare avanti. Noi abbiamo dei giovani molto coraggiosi che sono addirittura disposti all'età di 18 anni, di 17 anni, a volte anche a fare causa allo Stato italiano, mettendosi in ballo in prima persona. Galuaz e altri scrittori che poi hanno ripreso la vicenda, ovviamente ci riportano che nonostante il sistema fosse oggettivo e alla ricerca di un'oggettività, faceva sì che le classi migliori si ripresentassero e non si rinnovassero mai. In qualche maniera i ceti sociali dell'establishment, mediante questa peculiare selezione che era agevolata anche da forme di illegalità già all'epoca, permetteva che poi le stesse persone entrassero negli ordini professionali, entrassero nelle grandi e call e via discorrendo. Abbiamo dedicato un intero capitolo che si chiama I professionisti del test all'interno del libro. Chi sono i professionisti del test? I professionisti del test da un lato sono medici che vanno a accompagnare i loro figli per aiutarli, fratelli maggiori e via discorrendo, ma ci sono anche altri professionisti. Noi li abbiamo indicati con le iniziali, con la posizione in graduatoria, quindi sono ampiamente visibili e ampiamente controllabili. Queste sono persone che partecipano ai concorsi pubblici italiani, partecipano ai concorsi pubblici della ASL, partecipano poi dopo al concorso a medicina, al concorso a giurisprudenza e via discorrendo e quasi mai, anzi mai, accettano il posto, rinunciano e poi si ripresentano probabilmente per aiutare altri candidati. Abbiamo cercato con tutti gli altri colleghi, con l'avvocato Santideglia, con tutti gli altri colleghi del mio studio, di dare una visione nazionale alla vicenda. Abbiamo visto che da Bari vi erano, questo ovviamente nel passato, nell'anno 2007-2008, che vi erano delle proprie strutture organizzative che passavano per Foggia, Campobasso, Tor Vergata, Ancona, Chieti e si ramificavano all'interno di tutto il suolo nazionale. Io ritengo che non ci sia solamente un livello di truffe e corruzione, ma ci sia all'interno dell'università italiana anche un livello di violenza. Questa violenza è manifestata nel capitolo Pantarei, un capitolo che è molto nota alle cronache e non parliamo di tantissimi anni fa, parliamo di indagini in parte ancora in corso, parliamo di qualche anno, solamente di qualche anno fa. Che cos'è Pantarei? È un'inchiesta che parte a Messina, in cui vi è una fortissima presenza dell'andrangheta, in modo particolare legata alla famiglia Morabito, che è una famiglia calabrese che ha una marea di influenze nel Sud America, una marea di influenze a Roma nel quartiere Flaminio, una marea di influenze a Milano, in Africa e via discorrendo. Una famiglia potentissima che si occupava non solo di numero chiuso, così come è emerso nelle indagini, ma si occupava degli appalti dell'Università di Messina, si occupava di tanti altri aspetti, tant'è vero che l'epilogo di quella vicenda processuale è l'omicidio del professor Bottari, ammazzato con un colpo in faccia da parte ovviamente dell'andrangheta e di altre persone. Il libro si chiude con un capitolo che a me piace molto, piace anche a Massimo, che è l'Ultima Dea, si chiude con un messaggio di speranza, perché comunque volevamo fare un libro propositivo, perché poi l'Università italiana non è solo tutto quello che abbiamo descritto, ovviamente il libro è il libro d'inchiesta, vi sono delle parti sane all'interno dell'Università italiana che vanno coltivate. Però prendiamo atto che oggi è tutta la società italiana che ha numero chiuso e ormai il sistema universitario è completamente blindato e chiuso. I nostri giovani quindi oggi hanno solamente l'escamotage, tra virgolette, e lo ripeto, tra virgolette, di andare all'estero. Emblematico è il caso ovviamente dell'Albania, a Tirana c'è una vera e propria succursale dell'Università di Tor Vergata. La differenza qual è? Che da un lato si pagano 10.000 euro, non ci sono i limiti dell'FFO, che è il fondo di finanziamento ordinario, che ha dei limiti per la contribuzione studentesca, e lì in Albania possono richiedere le somme che vogliono. I docenti sono gli stessi, i programmi sono gli stessi, anche il dialetto della segreteria e il romano di Tor Vergata. È tale quale, non cambia assolutamente nulla. Abbiamo fatto una serie di accessi agli atti, accessi agli atti anche in parte negati da parte dell'Università di Tor Vergata, nonché una serie di accessi agli atti presso il Ministero. In modo particolare cito un decreto ministeriale, che è il 2009, a firma Gelmini, ma a dire il vero neanche dai successivi governanti revocato, che è un decreto ministeriale che prevede una sorta di fondi di finanziamenti diretti e indiretti per queste università all'estero, mentre in Italia si chiude. Finché ovviamente ci saranno tutte queste cose, noi continueremo, continueremo per un'ottica di un'università che noi immaginiamo completamente pubblica, gratuita e soprattutto aperta a tutti. Grazie a tutti.